Bentornati in un nuovo appuntamento con le Fantamagus Week News Anche oggi, questa settimana, riusciamo ad essere insieme Sì, siamo riusciti Ciao a tutti, io sono Davide di Fantamagus Milano E io sono Massimo di Fantamagus Monza E oggi vi parliamo, come al solito, delle novità che arrivano durante la settimana Esatto, allora parto io con le novità di MS Edizioni In realtà è un'anteprima questa settimana Quindi sono dei prodotti che non ci saranno in tutti i negozi Però da Fantamagus ci sono perché aderiamo appunto a questa anteprima I prodotti sono tre, uno è il gioco Villagers che è un Kickstarter Che appunto adesso è edito in Italia invece da MS Edizioni Quindi localizzato, un gioco da uno o cinque giocatori Si presenta come un gioco semplicemente di carte Non abbiamo qui la confezione Adesso vedete le immagini sono in pressione Esatto, vedete le immagini proprio perché essendo così in anteprima ancora non abbiamo nulla Allora, questo gioco praticamente cerca di riprodurre l'ambientazione in cui si sono, diciamo, trovati I fondatori dei villaggi del medioevo Dopo un periodo di peste, quindi in cui non c'è nulla Hanno dovuto ricostruire questi villaggi Infatti i giocatori dovranno costruire il proprio villaggio E cercare di, alla fine della partita, guadagnare più soldi possibili Quindi costruire il villaggio migliore Il tutto si svolge giocando delle carte E questo sistema ha pensato appunto di riprodurre l'ambientazione Per cui ci sono questi rifugiati su queste strade Che cercano di andare a fondare nuovi villaggi Infatti ritroverete una serie di carte dei villagers In cui appunto poi prima con te stavano parlando Come poterlo tradurre in italiano sarebbe villici però Sì, esatto, sì Che poi alla fine anche per l'ambientazione ci sta come Ci sta, esatto È un po' disueto come termine Infatti non l'hanno tradotto anche No, esatto Infatti MS l'ha lasciato, anche loro l'hanno lasciato con il titolo originale Quindi voi non dovete fare altro che raccogliere appunto Infatti c'è una fase di draft in cui andremo a scegliere appunto questi villici E andremo a portarli per costruire il nostro villaggio La caratteristica di questi personaggi Sostanzialmente ci sono anche degli artigiani Bisogna cercare di costruire sostanzialmente delle catene Con queste carte Per produrre poi tutti i beni necessari Che sono utili appunto per il sostentamento del villaggio Vogliamo un'immigrazione selezionata Con gente qualificata nel nostro villaggio Quindi il gioco appunto ha questa fase di draft iniziale In cui appunto andiamo a prendere gli artigiani Purtroppo so che i villici Ognuno di loro ha delle caratteristiche Adesso non mi dilungherò sulle varie caratteristiche Perché poi ci sono alcuni che danno determinate cose Altri che hanno magari il lucchettino Che si chiama, che bisogna sbloccare Per sbloccarlo bisogna avere un altro Ci sono delle carte che ci permettono di farlo Quindi insomma c'è tutta una fase Dopodiché c'è una seconda fase invece che si chiama appunto di costruzione Cioè questa building phase Dopodiché cosa succede? Finita questa fase di costruzione del villaggio C'è la fase del mercato Fase del mercato dove praticamente andremo a risolvere sostanzialmente Tutte le nostre catene Che abbiamo costruito durante il gioco E poi ci sarà una seconda fase del mercato Che va a concludere il gioco E da lì otterremo tutta una serie di ricompense Che sono appunto questi gettoni d'oro Piuttosto che altro Non entro troppo nel dettaglio del gioco Perché in realtà poi ci sono appunto Ci sono gli artigiani speciali Ci sono un sacco di cose Ci sono È un gioco abbastanza Tra l'altro il formato del gioco Che se lo vedete Vedete una scatola comunque contenuta Anche con un prezzo contenuto del gioco Molto contenuto Però da come avete intuito La profondità del gameplay invece Sicuramente Cioè nel senso non è proprio un giochino No, no, assolutamente Non è un filerino È proprio invece un gioco molto molto interessante Ha una durata di 30-60 minuti Lo danno dai 10 anni in su Quindi comunque di solito di giochi dai 10 anni in su Considerate che un ticket to ride Viene dato dagli 8 anni Tanto per dare un po' di difficoltà No, no, comunque è un gioco con la sua profondità Tutto sommato Magari non lunghissimo Rimane magari sempre nella categoria family Ma secondo me è un family un po' sostenuto Decisamente Poi passiamo invece Allora Visto il successo di 4 against darkness Questo gioco di ruolo Libro game Ma è il slash libro game Sì esatto Comunque vintage Che ha avuto un grandissimo successo Prosegue con un nuovo modulo di avventura Questa volta è per personaggi Che vanno da sesto al nonno livello Il modulo si chiama Orrori dall'aldilà Orrori dall'aldilà Allora qua mi sono scritto un attimino A quello che contiene A 9-5 classi Un sistema economico dell'aldilà Basato sul commercio di anime Quindi vada Andiamo ad aggiungere Un sacco di cose Anche c'era già un modulo precedente Comunque che Parlavo dell'adventura Beh sì Non sono solo moduli di avventura Questi qua di 4 against darkness Aggiungono anche Quasi sempre Elementi di gioco Classi Regole aggiuntive Gioco base eccetera Cioè danno comunque Una profondità diversa Al gioco Oltre all'avventura Cioè voglio dire Esatto infatti ha nuovi incantesimi Ha delle regole nuove per l'esplorazione su mappa Nuovi tipi di terreno Nuove reazioni Come i brucianime Cattura Patto diabolico E tante altre Poi ha nuove tabelle Tanto è vero che prima Parlavo con Max Diciamo ma Questo modo alla fine È il proseguimento di un'altra avventura Invece no No Cioè parte dal sesto livello in su Perché comunque introduce Probabilmente regole Che si applicano Al gioco avanzato Avevamo visto L'ultima espansione Che introduceva le regole Proprio oltre il quinto livello Ed evidentemente Per questa avventura E anche tutti i personaggi Le regole Sono pensate Per i personaggi avanzati Cioè quelli oltre il quinto livello Quindi È molto semplicemente Ormai For a Game of Darkness Sta diventando un vero e proprio Gioco di ruolo È un ecosistema Adesso c'è di espansioni Che rendono un gioco abbastanza Nato come librettino Che da dire Ah vabbè ti metti col fogliettino a quadretti A fare il tuo dungeon In modo casuale È molto ricco il gioco Molto ricco Poi passiamo invece A un'espansione Per architetti Del regno occidentale Che sono Si chiama L'era degli artigiani Allora In questa Espansione Vengono Praticamente Ci sarà la possibilità Di giocare Fino a sei giocatori Introduce Anche nuovi Sei Apprendisti E una carta Maestria Che è la novità Sostanzialmente Di questa espansione La carta maestria Ha due Due lati Ce n'è uno giallo E un altro soprano Che dovrebbe essere rosso Praticamente Quello che accade È che a seconda Di dove andiamo Ad abbinarla Quindi se lo andremo Ad abbinare Al nostro apprendista Migliorerà delle sue abilità Piuttosto che invece Poterla utilizzare Per andare Ad aggiungere Degli elementi Agli edifici Quindi ha una doppia funzione Possiamo scegliere Dove andarla a piazzare Questa diciamo È la caratteristica Dell'era degli artigiani Per quanto riguarda Architetti del regno occidentale Beh Architetti è stato Come sapete Se ci seguite Avete visto anche Il nostro video Tra i giochi Più innovativi Del 2019 Un grande C'è un gioco Molto interessante Molto innovativo È uscito Il suo secondo Il suo continuo Che era paradini Del regno occidentale Che abbiamo Anche quello Disponibile Questa però È proprio un'espansione Per il primo gioco Beh insomma Nel senso Sapete che Lo tengo sempre Molto in considerazione Quindi è Veramente interessante Per chi è piaciuto Il gioco Sicuramente valga pena Provare anche l'espansione Ok Abbiamo concluso Con MS edizioni Tutte anteprime Queste Tutte anteprime Trovete in anteprima Questa settimana Nei negozi Verso fine settimana Credo L'anteprima Dovrebbe essere Il 21 Quindi venerdì Venerdì Ok Io invece Vado andando avanti Con dei giochi Invece distribuiti Da Asmoday Allora Il primo È proprio un gioco Pubblicato da Asmoday Italia Che è Anche questo Un gioco Di cui si è sentito Parlare Da lungo tempo Era Tra quelli annunciati Quasi un anno fa Quasi È molto interessante Si chiama Black Orchestra Black Orchestra È un gioco Collaborativo Da 1 a 5 giocatori Ambientato Sostanzialmente Durante La seconda guerra mondiale La Black Orchestra È questa Organizzazione Segreta Fatta da Personaggi Di spicco Della Germania Nazista Che Si era data Come obiettivo Come scopo Quello di Assassinare Hitler Per eliminarlo Perché Le cose Non andavano Evidentemente Bene Qualcuno L'aveva percepito Questa cosa Niente Quindi Durante il gioco Noi dovremmo Cercare Collaborando Un gioco Collaborativo Puro Nel senso Le informazioni Sono totalmente Aperte Tutti i giocatori Si possono Concertare Insieme Tutte le mosse Di ogni singolo Giocatore Ci si potrà Anche scambiare Risorse Tra i vari giocatori Eccetera Quindi è proprio Un collaborativo Puro Diciamo Adesso Vi farò vedere Qualche immagine Se vedete Se riesco a farvi vedere Il tabellone Vedrete che c'è Una tabellone Che riproduce Sia la città di Berlino Con diversi luoghi Sia diverse città Dell'Europa Il gioco Si divide In capitoli Fondamentalmente Durante il gioco Praticamente Verranno messe in campo Delle carte Di vari capitoli E noi potremo Spostarci Nelle varie location Soltanto Alcuni saranno Accessibili Soltanto In là Nella partita Quindi quando Avremo Quando avanzeremo Con i capitoli Infatti vedete Che tutte le location Hanno dei numeri Quindi non so Una location Con il numero 4 Potremmo raggiungere Solo durante Il quarto capitolo Della partita Vedete poi Le schede Di personaggi Adesso anche quelle Cercherò di mettere In sovraimpressione Perché il gioco Deve ancora arrivarci Abbiamo una scelta Tra diversi personaggi Che possiamo interpretare Quindi Gioco fino a 5 giocatori Ma nella scatola Abbiamo più di 5 personaggi Quindi possiamo fare Una scelta Ogni personaggio Ha delle abilità speciali E poi vedete Che ha diversi Indicatori C'è un valore Di motivazione Nella sua Comportale Praticamente Poi c'è un valore Di sospetto Cioè quanto i gerarchi Della SS Soprattutto Lo tengono d'occhio Sospettano di lui E poi hanno La possibilità Di portare Su di sé Degli oggetti Esplosivi Cose varie Eccetera Per realizzare L'attentato Sulla mappa Poi vedete Che ci sono anche Messi segnalini Di Hitler E dei suoi ministri Principali Quando ci troveremo In una location Dove si trova Hitler Uno dei ministri Subiremo Degli effetti Negativi Se no Noi continueremo A muoverci Sulla mappa Tramare E raccogliere oggetti Che ci interesseranno Per risolvere La nostra Storia Il nostro obiettivo Unico È quello Di uccidere Hitler Dobbiamo farlo Prima di venire Tutti quanti Imprigionati Se in qualsiasi momento Siamo tutti quanti Imprigionati O se in qualsiasi momento Finiscono le cut Dei capitoli Quindi semplicemente Ci abbiamo messo troppo E sostanzialmente Perdiamo la partita Altrimenti Se riusciamo a uccidere Hitler Cambieremo la storia E vinceremo Vinceremo noi È un gioco Collaborativo Molto interessante A sfondo storico Secondo me Vale la pena Per chi piace Un po' i giochi storici O i collaborativi Con una certa profondità Secondo me Anche perché Hitler Quanti attentati ha subito Sette E diversi Insomma Poi non so Se si conoscono tutti Perché poi comunque Sì Le cose non andavano così Non erano così Non erano così Non erano tutti così Concordi Nonostante la propaganda Voglio dire E poi è stato anche Fortunato in molti casi Eh sì Esatto C'è un bellissimo film Quello con Tom Cruise Non so se l'hai visto Sì è vero È vero È vero Che racconta un po' In effetti poi loro Fallisce Ovviamente L'attentato E vengono tutti quanti Io invece ho visto Di recente Jojo Rabbit Sì Ha sempre ambientato Ha vinto adesso Anche un premio Oscar E ha ambientato sempre Durante la Germania Durante la guerra Nella Germania nazista Ove c'è questo bambino Che ha Hitler Come amico immaginario Ah sì No non l'ho visto Molto bello Perché nasce Nella Germania nazista Ed è un pregno Della propaganda Poi non è che potevano scegliere Entra nella gioventù italiana E lui c'ha Hitler Come amico immaginario Bellissimo film Sì Lo vedo Ok vabbè ci siamo dilungati Comunque Questo è la Black Orchestra Il secondo titolo Invece è distribuito da Smoday Invece è edito da Pendragon Ed è Oceani Cambiamo completamente Cambiamo completamente Allora Oceani Non è nient'altro Che uno spin off Di un gioco Già pubblicato In passato da Pendragon Che era Evolution È uno spin off E non un'espansione Che vuol dire Che il gioco è giocabile Indipendentemente Dal fatto che possediate Evolution Oceani comunque Ripercorre Sempre questa idea Di un gioco Basato sul concetto Di evoluzione Delle specie In questo caso Delle specie marine Ok siamo nell'oceano Nell'oceano ci sono Diverse risorse Tra cui Con la base Air Prankton Con cui noi possiamo Sfamare Specie che andremo A creare E creeremo Diverse specie marine Dandogli dei tratti Che gli permettano Di adattarsi Al meglio E di sopravvivere Mangiando diversi Tipi di cose Possiamo creare Di predatori Ci sono i predatori Che mangiano Essere più grandi Più piccoli Si adattano In maniera diversa Oppure possiamo fare Possiamo fare Adattare Nutriendosi di Prankton O di altro Di altro tipo di cibo Ed è molto interessante Cioè Riprende il concetto Del gioco Di evoluzione Quindi i tratti Che andremo a dare Ai nostri specie Per farli adattare Dobbiamo cercare Di farli riprodurre Più possibile Per non farli estinguere Insomma Molto interessante Per capire il concetto Di come una specie Si evolve E si adatta All'ambiente Ok Quindi diciamo Che può piacere Sia agli appassionati Di Evolution Sì Esatto Esatto Oltretutto C'è molti Per esempio Anche qualche cliente Che mi ha già Tenuto d'occhio Mi ha detto Che è un'evoluzione Proprio anche Nel gameplay Cioè Prende i concetti base Il gameplay È abbastanza simile A quello di Evolution Ma lo evolve È più profondo Come gioco Un pochino più articolato Il gioco rimane Come Evolution Da 2 a 6 giocatori Per una partita Sui 60 90 minuti A seconda Del numero dei giocatori Bene Passiamo Quindi diciamo Che per le novità Per quanto riguarda Asmodee Sono finite Riproponiamo invece Delle novità Per quanto riguarda Invece Iroclix C'è Qua Se andiamo qui Qua Facciamo vedere Questa qua È la Fast Force Di Capitano America E Gli Avenger Che è Praticamente La nuova espansione Quindi Abbiamo Come sempre Due prodotti base Uno è La Fast Force Quindi praticamente Una espansione Con 6 miniature Visibili Eccetera Sempre uguali Che quindi potete usare Per giocare E poi c'è Il classico booster Invece Che contiene 5 miniature Casuali Esatto Perché Lo proponiamo adesso Non l'abbiamo mai proposto prima Iroclix L'abbiamo proposto adesso Perché C'è diciamo Una nuova fase Per quanto riguarda Questo gioco Potete trovare online Le regole in italiano Cosa che invece Prima non c'erano È da tanto tempo Che non c'erano Regole aggiornate Aggiornate E quindi Pensiamo E comunque Diciamo È il momento Ideale Per poter rincominciare Sì Se chi si vuole Avvicinare al gioco C'è appunto Un distributore Che lo sta seguendo Un po' Più da vicino Ci sarà anche Del gioco organizzato E quindi abbiamo deciso Sia di trattare I nostri punti vendita Anche se l'abbiamo Sempre trattato L'unica cosa Che appunto Era un po' Discontinuo Dettato dal fatto Che comunque Essendo un prodotto In inglese Pochi giocatori Comunque Diciamo Magari erano in grado Di comprendere Pienamente le regole Leggere le carte Adesso Visto che invece C'è Questa Novità Per cui comunque Potete trovare anche online Il regolamento Completamente in italiano Diciamo che Abbiamo intenzione Di continuare a seguire Tutte le novità E presentarle Nelle varie puntate Se appunto Proprio Anche se non è un gioco Che è in commercio Da tantissimi anni Ma se proprio Non il gioco Per vi è totalmente nuovo Eccetera In due parole Che tipo di gioco è È un gioco di miniature Con i supereroi Sia Marvel Come vedete qua Ma anche i supereroi DC Ci sono espansioni Anche i supereroi DC La particolarità È che è un gioco Skirmish Si gioca Con queste miniature Predipinte Preassembrate Su mappe Stampate Sono tutte diverse Sono mappe quadrettate Quindi Non c'è anche il problema Delle linee di vista Tirare cose Scenici Non c'è in questo gioco Perché si usano mappe Prestampate È molto chiaro Qual è la linea di vista È molto semplice Quali sono i terreni Valicabili Quelli invalicabili E l'altra cosa La particolarità È il motivo Per cui si chiama Hero Clicks È che usa un sistema Di click Sulla miniatura Esatto Sulla basetta Della miniatura È presente Una rotella Che mostra Dei valori numerici Valori numerici Che indicano Il movimento Il valore di attacco Il valore di difesa Il valore di danno Del personaggio Ogni volta che il personaggio Subisce un danno Viene ruotata La basetta Di un click E i valori Vedrete che cambieranno Un click per ogni danno Un click per ogni danno Ha subito E i valori cambieranno Non solo cambieranno i valori Ma questi valori Possono anche presentare Dei colori Cioè essere stampati Con uno sfondo colorato Nel caso in cui ci sia un colore Quel colore corrisponde A un superpotere E questi superpoteri Possono appunto variare Come variano i valori Della basetta Sono scritti Io semplicemente su una carta Andrete a vedere Quel colore Cosa corrisponde E' molto carino Questo sistema L'altra cosa Di Iroclix La caratteristica E' che Noi abbiamo nominato DC e Marvel Però loro hanno fatto Non so Star Trek Hanno fatto Sì degli anelli In passato Ma la caratteristica E' che io posso far Combattere Batman Contro Spider-Man Esatto Non sono obbligato A tenere Mono-universo Cioè Voglio dire Poi potete scegliere Qualche volete Potete fare Una partita Mono-universo DC con DC Marvel con Marvel Eccetera Però Nessuno vi vieta E potete anche giocare Più volte Lo stesso personaggio Perché ci sono Batman Di universi diversi O di storie diverse E quindi potete anche giocare Una squadra Solo di Batman Tutti diversi Perché la squadra Viene composta Sempre a punti A punti E quindi ogni miniatura C'è scritto Quali punti costa Quindi posso fare Buoni contro buoni Oppure posso mettere Batman insieme a Spider-Man Contro i personaggi cattivi Della DC Potete fare Qualche volete Possiamo costruire il nostro mondo Possiamo costruire il nostro mondo Beh insomma Un gioco che ha avuto Sempre un grande successo In passato Lo mettiamo qua dietro Ok andiamo avanti Altra cosa Allora Quindi abbiamo terminato Con Whiskits Abbiamo introdotto Invece Nei nostri punti vendita Un nuovo prodotto Che si chiama Dungeon World Creator Allora io vi faccio vedere La scatola grossa Che secondo me Non so neanche se ci starà Tutta nell'inquadratura Il Fantasy World Creator Sostanzialmente È una serie di accessori Per il master O comunque per i gruppi Di giocatori Di giochi fantasy Non è necessariamente Legato a D&D Ma può essere comunque Utilizzato per qualunque Gioco fantasy La caratteristica di questo gioco Avete all'interno Delle mappe Di tile Che sono Che si possono incastrare Uno con l'altro Oltre al fatto Che vi hanno inserito Dentro per esempio In questo set Che è quello più grosso Anche tutta una serie Di segnalini In cartoncino Di vari personaggi Quindi se non trovate La miniatura In plastica O comunque In resina plastica Come ne abbiamo noi In negozio Potete benissimo Utilizzare questo all'interno Hanno creato Tre set C'è questo Fantasy World Creator Che questo è quello più grosso L'altra cosa Che non vi ho detto Che all'interno Trovate anche un codice Per scaricare Un'app Che vi permette Di creare a computer Direttamente il vostro dungeon Quindi provate tutti i pezzi Il secondo Il treasure Che è questo Ok La scatola simile È un po' più piccola Sono riuscito Sono riuscito a dare Inquadratura Ok Tengo io Mentre invece Poi abbiamo Un The master's black book Scusate Che ha all'interno 200 utilities Sono pagine Con dentro Diciamo Delle schede Per preparare i personaggi Creare i monster Creare le spell cards Tutte queste scatole Hanno anche l'interno Adesso non so esattamente Se la treasure ce l'ha Però sia il black book Che il world creator Base Hanno all'interno Anche i pennarelli Cancellabili Che è una cosa Che non l'ho detto Che si possono utilizzare Appunto Per Per Da utilizzare Scusate Sulle varie mappe Piuttosto che varie schede In modo che il master Possa anche cancellare È una cosa Che tra l'altro richiestissima Questa storia dei pennarelli Perché poi uno dice Ah preso la mappa Quella lì Però poi dopo Non riesco a trovare I pennarelli cancellabili C'è un casino E invece Qua risolvete Tra l'altro Poi vabbè C'è un livello Di dettaglio Dentro Di varietà Di terreni Di miniature Cioè di Di dettaglio Comunque No decisamente È il prodotto Allora noi In negozio abbiamo tanti prodotti Ne abbiamo avuti anche in passato Abbiamo le mappe Abbiamo i tile Abbiamo quelli di Pathfinder Abbiamo quelli della Wizard of the Coast Tutto qua Questa cosa Siamo un po' maniaci E tutte le miniature Questo diciamo Che però può essere sicuramente Uno strumento Come possiamo dire Un prodotto Che raccoglie un po' tutto Ed è un po' universale Fondamentalmente Penso che la caratteristica Poi di questo prodotto Sia questo Quindi Per i master Sicuramente È un prodotto indispensabile Beh è proprio bello Sì Proprio bello Questo Cioè se volete arricchire Le vostre partite I giochi di ruolo Come sempre Sono accessori Io lo dico sempre ai giocatori No Quello che vi serve In un gioco di ruolo Sono i manuali Sì E i dadi E i dadi Poi tutto il resto Sono accessori Però quando poi provate A giocare Con certi accessori Poi Cioè vi accorgete Che le vostre sessioni Diventano più belle Più ricche Un'esperienza migliore Che è riuscita a visualizzare Meglio le situazioni Che raccontate Cioè avere un supporto visivo Comunque alla narrazione È importante Cioè Beh ma poi Il cinema Cioè lo insegna No Dalla narrazione Passare dal libro Alla potenza Anche comunque visiva Di poter visualizzare Cioè senza Solo immaginare Cioè delle situazioni A di là della praticità Nei momenti di Non so Gioco tattico In cui c'è combattimento Però c'è comunque La capacità di visualizzare Delle cose Arricchisce l'esperienza Ma sicuramente Il fatto di avere la possibilità Di sciogliere proprio personaggio Oppure quando il master Tira fuori di nascosto Il monster Lo mette davanti E cambia completamente Rispetto a dovessi Immaginare tutto Che vabbè Magari uno gira manuale Fa vedere Immagini del monster Oppure lo descrive Però voglio dire No sicuramente Almeno in passato 20 anni fa Non c'era tecnologia Per questi prodotti Perché effettivamente Non li avevamo Adesso effettivamente Con tutta l'evoluzione Tecnologica Adesso abbiamo Tutta una serie di strumenti Che renderanno sicuramente Più avvincenti Le nostre sessioni di gioco Ok Allora Andiamo avanti Sì Allora questa volta Non è un prodotto nuovo No Bensì noi Settimana scorsa Vi abbiamo parlato Della promozione Cranio Gran Riserva Che appunto Ha tutta una serie di prodotti Della cranio In promozione Che continua ancora C'è ancora qualcosa C'è ancora qualcosa Sì C'è ancora qualcosa Abbiamo aggiunto Abbiamo aggiunto un prodotto Abbiamo aggiunto Per quanto riguarda Santorini Santorini Lo troverete Nei nostri punti vendita 25,90 euro Conto i 35 euro E anche questo Comunque Limitato nel tempo Ed è diciamo Un nuovo prodotto Che abbiamo aggiunto A tutti Una serie di titoli Che sono in promozione La nostra aggiunta Perché non bastava Se poi volete vedere Ovviamente i prodotti Tutti quanti in offerta Potete andare sul sito E li vedete E sono gli stessi Che poi troverete Nei nostri tre punti vendita Ok Quindi Santorini Beh il gioco Non serve presentazione Grande classico Ok Mentre invece Come ultima cosa Prima di lasciarvi Vogliamo In realtà Vogliamo soltanto Ricordarvi di un evento Che si terrà a Milano Perché la fortuna Di essere a Milano O comunque Nei dintorni Che si chiama Milano Overgame E troverete Max Sì ci sarò io Con il tuo stand Sì quest'anno Partecipiamo All'evento E a una piccola Insomma Una manifestazione Che si chiama Novegro Nel parco espositivo Di Novegro Vicino a Rinate Quindi qua a Milano Sostanzialmente Dedicata al mondo Dei giochi Di miniature Un po' in generale In passato Era molto legato Alla miniatura storica Eccetera così Negli anni Si è un po' Allargato Il discorso Io presenterò Avremo un tavolo In cui faremo provare Iroquix Quindi per esempio Se volete venire A conoscere Iroquix Oltre a passare in negozio Se volete Ma comunque C'è anche questa occasione In fiera E poi ecco In generale Avremo tutti i giochi Più dedicati Al mondo delle miniature Quindi porteremo Tutto quanto riguarda Sia le miniature Per esempio Dei giochi di War Di cui parlavamo prima Ma anche Tutti i giochi da tavolo Legati Ai giochi di miniature Allora Si terrà Domenica Domenica 23 23 Dalle 9 Dalle 9 Fino alle 4 Del pomeriggio 4 del pomeriggio Quindi non è anche lunghissima Abbastanza concentrata Come in fiera Bene Quindi per questa settimana È tutto Vi ricordo Che Le puntate Le potete trovare Sul canale di youtube Quindi se vi sono piaciute Potete iscrivervi Al nostro canale Fantamagus Attivate la campanella Così potete ricevere Le notifiche Appena viene pubblicato Il video Normalmente le puntate Vengono pubblicate Salvo imprevisti Alla 1 e mezza Di tutti i lunedì Di ogni settimana Mentre invece Sulla nostra pagina facebook Troverete il link Sempre al canale di youtube Quindi vi ringrazio Dell'attenzione E del tempo Che ci avete dedicato E ci vediamo Alla prossima puntata Ciao a tutti Ciao